Ciao a tutti, sono Irene del benessereolistico.com. Oggi vediamo come trattare l'apparato urinario sulle nostre mani in modo di andare a riequilibrare tutto il nostro corpo. L'apparato urinario è importante proprio per un discorso di buttar fuori le tossine. Quindi per prima cosa andiamo a fare dei movimenti con le nostre mani in modo da sciogliere eventuali tensioni perché se abbiamo grosse tensioni a livello muscolare è un po' come se i punti riflessi fossero diciamo nascosti dalla contrattura muscolare. Quindi diciamo un automassaggio e dei movimenti molto liberi con le nostre mani in modo anche da sentirle più calde. Dopodiché andiamo a premere nel punto centrale della nostra mano che è il punto del rene, poi scendiamo all'ombrico sul nostro uretere e poi andiamo a scaricare in senso antiorario la vescica con l'idea di buttar fuori e lo facciamo su entrambe le mani. Se sentite il punto doloroso non vi preoccupate, non significa assolutamente che non avete nulla che non va nel vostro apparato urinario, potrebbe essere semplicemente un disequilibrio energetico e vi ricordiamo che disequilibrio energetico non significa assolutamente malattia o patologia. Potete farlo un paio di volte al giorno soprattutto nei momenti in cui vi sentite un pochino più affaticati sia a livello di fisico che di mente perché questo vi aiuterà a buttar fuori tossine e poi è importante comunque anche una corretta idratazione, quindi bevete a sufficienza.